Ben ritrovati gentili telespettatori all'edizione del telegiornale del Friuli Venezia Giulia. A Pordenone, distretto Legno Arredo, il caso DOR 2000. Nel non facile riavvio del settore del Legno Arredo c'è una notizia positiva che riguarda l'azienda DOR 2000. La reaggiudicazione dopo le alterne vicende seguita al fallimento consentirà di salvare 28 addetti che lavoravano nell'azienda specializzata nella produzione di porte. E' stata la Trevigiano GD Dorigo S.P.A. con un rialzo al 33% ad aggiudicarsi il gruppo DOR 2000 S.P.A. di Vane Noncello, falito il 15 luglio scorso. Il rialzo ha inciso anche sul canone d'affitto dell'azienda e sul numero di dipendenti da assumere. La locazione è infatti salita da 4.000 a 5.320 euro al mese e i dipendenti da 21 a 28. Dopo tante offerte e retromarce, il curatore Paolo Fabris può ritenersi soddisfatto. Dei 62 dipendenti, 13 hanno trovato un'altra sistemazione e ben 28 potranno continuare a lavorare a Vane Noncello. Per gli altri scatterà la mobilità. Osopo, vasto incendio nella notte alla Fantoni. Un violento rogo è divampato nelle prime ore di oggi nella parte esterna della fabbrica di pannelli Fantoni che sorge nella zona industriale Cipaf di Rivoli di Osoppo. Per causa che sono in fase di accertamento da parte dei vigili del fuoco che sono rimasti impegnati per gran parte della giornata sul luogo del rogo, pare che l'incendio si sia scoppiato da alcuni depositi di materiale stoccati nel piazzale esterno. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia stradale e i responsabili della società. Più di 30 i pompieri che hanno operato dal comando di Udine e dagli altri vicini si distaccamenti con il supporto anche di una partenza dal comando di Gorizia e dal distaccamento di Monfalcone che ha inviato una squadra completa a PS, ingenti invece i danni. Nessuno fortunatamente è rimasto ferito. E' la terza volta che accade l'incendio di questa notte, tuttavia è il più grave mai accaduto nell'azienda. A Trieste, primo Frecciarossa in Friuli Venezia Giulia. Sarà il primo Frecciarossa a viaggiare in Friuli Venezia Giulia. Partirà da Trieste direzione Milano alle 6.08 di domenica 11 settembre, regalo di fine estate a sostituire alla stessa ora il Frecciabianca attualmente in servizio. Un upgrade reso possibile dalla disponibilità degli ATR 500 in via di sostituzione sulle tratte ad alta velocità da Milano a Napoli da 50, nuovi Frecciarossa 1000. La conferma è arrivata dalla compagnia nazionale. A partire dalla seconda domenica di settembre, Trieste arricchirà la sua offerta quotidiana con un mezzo capace di toccare i 300 km all'ora. Non in regione dove l'alta velocità non è ancora arrivata e a quanto pare non arriverà ancora per molto tempo, ma tra Mestre e Padova e dentro fine anno pure tra Treviglio e Brescia a connettersi poi con quella già esistente tra Treviglio e Milano dove i cantieri sono in fase di chiusura. Per raggiungere il capoluogo Lombardo ci si metterà quindi meno di 4 ore, precisamente 3 ore e 52 minuti, confermate intermedie a Monfalcone, Cervignano, Mestre, Verona e arrivo a Milano alle 10. Al ritorno una partenza è prevista alle 19.35 e l'arrivo con le stesse tappe dell'andata è fissato alle 23.28. Non migliorerà di molto il tempo di percorrenza, ma crescerà la qualità del prodotto. Il Frecciarossa non prevede infatti primo o seconda classe, ma mette a disposizione del passeggero 4 livelli all'insegna del massimo comfort, ha assicurato la stessa trenità in Italia. Si tratta delle classi Executive, Business, Premium e Startland. La Executive in particolare è composta da 8 poltroni singole in pelle con poggiagambe, mentre le carrozze Business prevengono poltrone ergonomiche sempre in pelle e poggiatesta reclinabile. Tra i servizi a bordo, sin dall'area standard, disponibile portale Freccia accessibile attraverso rete Wi-Fi con il servizio di intrattenimento e connessione internet a 3G. In carrozza, anche se in monitor di bordo, con informazioni e news di viaggio in continuo aggiornamento. Per chi sceglie la Executive, ecco anche una sala meeting con tavolo riunioni, 6 poltrone e un monitor ad alta definizione a 32 pollici collegabile al computer personale. Per le videoproiezioni, e sempre per i clienti top, il servizio di ristorazione del Frecciarossa distribuisce vevande durante tutto il viaggio, caffè espresso Illy spremuto d'arancia e pasti gourmet con piatti caldi o freddi, serviti al posto o colazione, pranzo aperitivo e cena. Non manca nemmeno l'edicola con quotidiani e riviste. I prezzi naturalmente sono conseguenti al servizio, se il Frecciabianca prevede due tariffe da 55 e 75 euro, ma con l'economy che consente cambi di date e rimborsi si scende a 29,90, il Frecciarossa ha costi più differenziati. Come da verifica nel sito della società nazionale, si parte dal super economy, dai 24,90 delle carrozze standard agli 89,90 dell'executive. Quindi l'economy da 49,90 a 110 e la base da 64 a 144. Trieste, gli abitanti fugono in Slovenia. Sono già mille i triestini che negli ultimi anni hanno preso fissa dimora nelle località slovene al di là del confine. I tre slocchi sono cominciati nel 2004, quando l'ingresso in Europa ha liberalizzato il mercato immobiliare della vicina Repubblica, permettendo ai cittadini italiani di valutare le zone a ridosso della frontiera come alternativa per trovare casa a prezzi convenienti e vivere nel verde, senza interrompere i rapporti con la città. Prima della crisi del mercato immobiliare fu un piccolo boom. La maggior parte si è stabilizzata a mezz'ora di auto dal centro di Trieste e mantiene la propria occupazione in Italia, dove le retribuzioni sono più alte. Il legame resta vivo per altre ragioni facilmente immaginabili. Parentele, amicizie, frequenza scolastica, assistenza sanitaria e accesso ai servizi. Fino alla pensione, pedolarismo, insomma, pane quotidiano. Il trasloco avviene verso le unità amministrative di Sesana e Capodistria, con la prima ad attrarre il flusso più consistente. Secondo i dati stimati dal Primoschi-Dnevik, dal 2004 al 2015 sono stati 526 triestini a spostare la residenza nel circondario, composto da Sesana, Comeno, Divaccia e Derpelle-Cosina. Vi si sommano 231 trasferitesi nell'unità di Capodistria e Ancarano, come attestano i dati dell'autorità di Ljubljana. Sommando i due insieme, si arriva a 750 unità, 100 in più degli italiani iscritti all'Aire, dopo aver spostato la residenza nella fascia confinaria slovena, come dicono le statistiche del Comune di Trieste. Il sociologo Devan Jagodic, autore di studi sul fenomeno, ritiene che la stima complessiva vada ritoccata al rialzo. Le cifre ufficiali, dice, sono basse e i dati Aire dimostrano che non tutti quelli che si trasferiscono in Slovenia cancellano la residenza in Italia. Esiste dunque una fascia non rilevata. Dalle mie ricerche emerge un 30% di sommerso, dice Jagodic. Applicando la percentuale ai dati ufficiali, ecco che il totale si attesta attorno ai 1.000 triestini dimoranti al di là del confine. Il fenomeno nasce come in molte città, dalla volontà di spostarsi dal centro verso una più salubre, tranquilla ed economica periferia. Solo che nel caso di Trieste, Suburbia sta oltre una frontiera divenuta permeabile dopo la fine dei controlli doganali previsti da Schengen. La distribuzione è puntiforme, ma la località più gettonata è Sesana, che offre tanto villette immerse nella natura carsica quanto appartamenti in un ambiente urbano dotato di infrastrutture e servizi. E così, come scrive il giornalista Sandor Tence, Sesana ha recentemente vissuto un notevole incremento demografico ed economico. I triestini sono ormai il 2% della popolazione della sua unità amministrativa, sparsi anche in frazioni minori come Lecov e Duttogliano. Udine, caso Regeni, nuovo vertice tra Italia ed Egitto. I magistrati italiani ed egiziani che indagano sul caso di Giulio Regeni torneranno a incontrarsi nei prossimi giorni. La nuova riunione è stata fissata per l'8 e 9 settembre a Roma su richiesta della Procura italiana. Ed è la prima dopo che i due incontri della primavera scorsa avevano lasciato insoddisfatti inquirenti e governo italiani per la scarsa collaborazione delle autorità egiziane. Al nuovo vertice parteciperanno il procuratore Giuseppe Pignatone, il sostituto Sergio Colaioco e per gli egiziani il procuratore generale Nabil Ahmed Sadek e il team di magistrati creato per indagare sulla morte del giovane ricercatore scomparso al Cairo il 25 gennaio e ritrovato morto il 3 febbraio sul ciglio della strada che porta ad Alessandria. All'incontro verrà fatto il punto sulle indagini dopo i documenti che gli uffici giudiziari si sono trasmesse attraverso rogatoria negli scorsi mesi, come avevano richiesto i PM di Piazzale Clodio. E mentre l'Egitto aspetta che l'ambasciatore italiano Gianpaolo Cantini si insedia al più presto al Cairo, in Italia resta forte la domanda di verità per Giulio. Nuovi particolari sembrano emergere anche dall'inchiesta della trasmissione di Rai 3 presa diretta nata in onda proprio ieri sera. Secondo alcune anticipazioni, l'ex ufficiale della polizia egiziana Omar Afifi sostiene che Regeni è stato arrestato e torturato da poliziotti in borghese e da uomini di servizi segreti perché sospettavano che fosse una spia straniera che stava svolgendo attività di spionaggio in Egitto. Lo stesso Afifi avrebbe ipotizzato inoltre che il presidente Abel Fatal Azizi appreso della morte di Regeni abbia chiesto che apparisse come un incidente stradale così come effettivamente dichiararono le autorità egiziane immediatamente dopo il ritrovamento del cadavere. Intanto, dopo più di 100 giorni nel carcere di Torà in condizioni di salute che sono andate via via deteriorandosi è stato scarcerato al Cairo il noto avvocato egiziano e attivista per i diritti umani Malek Aldi il primo a denunciare la scorparsa di Giulio Regeni l'uomo è tornato in libertà su decisione della Corte d'Assise del distretto di Sukba El Keima nel governo tarato di Qalubiab il cui legale aveva presentato davvero un appello. Non ci sono altre notizie ci risentiamo alla prossima edizione.